Pochi metri più in là dalla famigerata struttura del ferro di cavallo si sta generando un nuovo quadrilatero di degrado in cui lo spaccio è attivo 24 ore al giorno. Prostitute vendono il proprio corpo per acquistare droga, alcuni appartamenti sembrano essere occupati abusivamente e non tutti gli assegnatari avrebbero i requisiti per beneficiare di un alloggio popolare. A denunciare l'escalation di spaccio avvenuta dopo l'abbattimento del ferro di cavallo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che ha raccolto le istanze di alcuni residenti nelle case Ater di via Lago di Capestrano in prossimità del campo sportivo. Purtroppo sì, siamo a 200 metri dal ferro di cavallo. Dopo l'abbattimento del ferro di cavallo si è intensificata questa piazza di spaccio di droga che è una delle più importanti della regione Abruzzo adesso e si chiama il ferretto. Io l'ho denominato il ferretto. Qui c'è spaccio di droga, abusivismo, prostituzione, ragazze che si prostituiscono nella vicina via Tiburtina per pochi spiccioli e poi venire qua ad acquistare droga. I cittadini onesti mi chiamano e mi dicono che non ce la fanno più. Cittadini che hanno paura a scendere sotto, cittadini che hanno paura a mandare sotto i propri figli a giocare. Appunto i cittadini segnalano continuamente situazioni a rischio e degrado anche potenzialmente pericoloso. Automobili abbandonate sotto i portici e ferraglie sparse nell'erba alta causa dell'incuria. Via Lago di Capestrano e Via Lago di Borgiano con intersezioni tra le stesse sono invase da erba alta, sporcizia ammassata lungo la strada, materiali di risulta abbandonati, siringhe a vista. L'abbattimento non può essere la soluzione. Ma no, l'abbattimento non serve a nulla, l'abbiamo visto. Come vasi comunicanti abbatti e si sposta di solo 200 metri la criminalità. Regione Comune debbono fare immediatamente un censimento di tutte le abitazioni, verificare chi non ha i requisiti. Chi non ha i requisiti deve essere buttato fuori casa, assegnare le case ai tanti cittadini onestri che stanno marcendo in graduatoria e soprattutto attivare qui l'operazione strade sicure, che significa due militari e un poliziotto, due militari e un carabiniere. Esiste in altre città italiane, perché non si fa qui? Prima che sia troppo d'ardi, qui la malavita si è spostata e si sta vivendo la nuova stagione del ferro di cavallo. Non è possibile voltarsi dall'altra parte. Io faccio questa conferenza dopo mesi e mesi e mesi di lavoro, di sopralluoghi, di attività quasi investigativa, di appostamenti. Ho parlato con i cittadini, ho visto quello che si fa. Qui lo Stato deve tornare a restabilire legalità.